Riprende a essere dinamico anche in Sardegna il mercato immobiliare, che nel 2016 ha fatto registrare, dopo anni di stallo, un calo dei prezzi in media a metro quadro delle abitazioni, una crescita delle compravendite e del numero di mutui erogati. Un segno più che ha interessato tutte le quattro province sarde. I dati sull'andamento del mercato immobiliare nell'isola sono contenuti in una ricerca del quotidiano economico del Sole 24 Ore, che ha elaborato dati dall'Agenzia delle Entrate, gli studi di Nonimsma e CRIF rispetto al mercato del 2013. In Sardegna la performance migliore l'ha fatta registrare Cagliari con un più 25,49%, nel campo delle compravendite 5.086 in totale. Il calo del prezzo a metro quadro è stato del 9%, con una media di 1.416 euro. I mutui erogati sono stati 3.901, più 48%. Al secondo posto Sassari, con un più 19% di compravendite, con un meno 13% del prezzo medio a metro quadro e 870 a mutui erogati. Oristano si attesta al terzo posto, con un più 11% nelle compravendite, meno 7% del prezzo medio, mentre i mutui sono stati 500. Nuori in questa particolare classifica si colloca all'ultimo posto, con un più 2,33% nelle compravendite, 1.318 in totale. Il costo medio è stato di 1.258 euro a metro quadro e i mutui accesi 747, con un più 39,37%. Un mercato che riprende a muoversi e che tenta di recuperare il terreno perduto in questi anni di crisi, che hanno visto un comparto fondamentale dell'economia sarda come quello di Lizio perdere migliaia di aziende e posti di lavoro.